Oggi cosa mangerò, raga? Fletto di pesce impanato e mozzarella, raga. E che buon dà, che buon dà. Con un po' di pane non manca mai, poco a poco, però, non tanto. E' buon dà, buon dà. Avere la bocca più, più, più saporita. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi su Facebook, TikTok e YouTube, ragazzi. Mi raccomando. E' buon dà, buon dà. E' buono, ragazzi. Credetemi che è buono, veramente. Ogni tanto. E' buon dà, buon dà. 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 E' buon dà. E' buon dà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.